Dopo Corcolle e Viano, gli amici di Viano sanno bene che quest'alto o la vincevamo tutti o non la vince nessuno! Allora, buongiorno, io oggi sono veramente incavolata nera! Dove sono le persone qui? Dove sono? Mariano che cosa sta aspettando? E' uscita la notizia di Corcolle! I rianesi, dove cazzo sono? Oggi bisogna anche vogliare gli amministratori locali, dove sono? Non basta dire Morlupo, Castelguovo, Rignano, il Consiglio Comunale dice no alla discarica! Come? Ce lo devono dimostrare con i fatti! Noi abbiamo presentato a tutti i comuni il nostro atto di impegno e chi l'ha firmato? Soltanto Rignano! Non si fanno così le lotte! Non è questo il modo! I rianesi oggi dovranno riprire la piazza perché dopo Corcolle tocca a noi! Ma che cosa stiamo aspettando? La ruspa? Che facciamo? Ci mettiamo davanti alle ruspe? Non è questo il modo! Io in questo momento sono nera! Sono nerissima! Il Comune ci doveva appoggiare! Ho visto i rappresentanti del Comune! Però comunque lo sto dicendo! Ho visto i rappresentanti del Comune! Ma i rianesi, dove sono? Morlupo, dove? Sacrofano, che tanto dice alle assemblee! Non vogliamo la discarica! E allora che cosa fanno? Morlupo, dove? Castelnuovo, dove? Qui devono essere! In questa sede! Questa è la piazza per manifestare! Non dentro casa! O firmando solo i ricorsi! I ricorsi vanno bene! È legittimo anche dimostrare certe cose! Ma la presenza del cittadino è fondamentale! Perché noi dobbiamo far capire alle istituzioni che noi non ci stiamo! Noi vogliamo delle risposte! Certe! Qui stanno facendo il gioco delle tre carte! A chi tocca? Sempre a noi! È questo il modo? Speculare sulla nostra salute? E con i nostri soldi? Quali sono le risposte? Non c'è competenza neanche da parte della legione Lazio! Non c'è competenza da parte dell'assessore! Di Paolo non sa rispondere! Perché è un ignorante! Denunciamo! Questa è la nostra denuncia! E io mi sento oggi in diritto di dire basta! Voi ci state prendendo in giro! Ma che cosa vogliono da noi? Che cosa vogliono più? Manifestate! Tutti i giorni! A Corcolle! Lunedì ci dobbiamo essere! Tutti! Tutti! Portiamo anche i bambini! Perché noi stiamo lottando per loro! Mercoledì! Ci dobbiamo vedere sulla Cristoforo Colombo! Cominceremo lo sciopero della fame! E' quello vero però! Dobbiamo! Ci dobbiamo essere! Perché la signora Polverini deve capire che lei non è nessuno! Lei sta lì perché noi, purtroppo, l'abbiamo fatta salire! Se lei sta lì deve rendere conto a noi, cittadini! Perché lei è un cittadino! Non si deve trincerare dietro un palazzo! Basta con questi politici che stanno sempre dietro i palazzi! Devono scendere in piazza! Si devono confrontare con noi! Le risposte le devono dare! Basta dire noi con i cittadini non collughiamo! Ma chi sono? Come si permettono? E basta! Detto ciò, chiudo! Grazie!